Volete sapere come una scimmia è diventata caporale? Siamo nel 1915 e in Sudafrica stanno reclutando soldati da mandare in Europa, dove si combatte la prima guerra mondiale. Albert Marr decide di arruolarsi, ma non da solo, infatti si porta dietro la sua scimmia Jackie e chiede anche ai suoi superiori di poterla portare sul fronte. Questi non solo accettano, ma gli conferiscono anche una divisa fatta su misura per lui, pensando soprattutto che potesse aiutare il reggimento con il morale. Contro tutte le aspettative comunque, Jackie si rivela essere un ottimo soldato ed estremamente utile in tante occasioni. Salva la vita di Albert diverse volte, e dopo aver trascorso tre anni in trincea e l'essere quasi ucciso dalle schegge di una bomba, ritorna con il suo padrone finalmente in patria, dove gli viene conferita una medaglia al valore militare nel 1918.